Vittoria di Roma in rimonta, Roma che conferma l'imbattibilità qui al Babel, hanno dimostrato le due squadre di essere praticamente allo stesso livello, sarà una bella finale scudetto, cosa possiamo aspettarci da Gara 2? Gara 2 sarà una partita nella quale l'equipo Orizzonte cercherà, come spesso accade nel playoff, di fareggiare i conti, quindi inizierà di gran carriera, molto determinata, cercherà di mettere pressione dal primo minuto la formazione di Capanna, che invece al contrario cercherà di iniziare meglio rispetto a come l'hanno fatto Gara 1. Ci sarà certamente qualche piccolo accorgimento sia tecnico che anche tattico, le squadre hanno giocato molto simile in zona M, zona anche molto pressing, quindi dovrebbe avere una partita a scacchi come sono le partite di playoff.